Partì dal prossimo 25 settembre il corso di acqua psicomotricità promosso dall'associazione Autismo e Abba, cura della dottoressa Moira Faustini presso le suore del preziosissimo sangue di Pagani per la parte teorica e presso la piscina Olympia Sport Village di Nocera Inferiore per la parte pratica. Il contesto acquatico può rappresentare un modo attraverso cui poter far accedere il bambino alla possibilità di amplificare le proprie capacità di percezione. Il 25 e 26 settembre e il 27 ci sarà il corso per operatori in acqua da parte della dottoressa Moira Faustini e dell'Occsen Coni di Brescia. Questo corso è molto importante perché non solo gli operatori vengono formati in acqua ma vengono specializzati proprio a restare a contatto con i bambini e i ragazzi con autismo. Tutto questo permette di far sviluppare ai bambini tutte quelle abilità motorie fino ai grossomotorie che di solito non vengono lavorate durante l'arco della giornata. E attraverso un gioco ludico che viene fatto inizialmente con il bambino poi man mano esso viene portato anche all'abilità natatoria nel vero senso della parola essendo anche incluso insieme ai bambini e ragazzi normotipi. Quindi arrivare proprio al punto di poter fare e instaurare anche con un istruttore di nuoto tutti quegli obiettivi che di solito normalmente non si riescono a raggiungere. Questo corso è rivolto a tutti gli operatori del settore laureati in scienze motorie, scienze dell'educazione, terapisti della neuropsicometricità evolutiva, terapisti ABBA, terapisti RBT e verrà svolto a via San Francesco presso le sole del preziosissimo sangue di Pagani per quanto riguarda la parte teorica, mentre per quanto riguarda la parte pratica verrà effettuato all'Olimpia Sport di Nocere Inferiore. Da premettere che poiché ci sono delle normative anti-Covid che dobbiamo seguire, il distanziamento sarà di due metri tra un operatore e l'altro, proprio onde evitare casi di Covid eventuali. Il distanziamento sarà fatto anche in acqua e quindi ci saranno tutte le precauzioni possibili per quanto riguarda questo corso di presenza che avrà un massimo di 15 partecipanti. Si può iscrivere, abbiamo un modulo di iscrizione sul nostro sito www.autismoeabba.it oppure ci può scrivere tramite un'email info-autismoeabba.it Grazie a tutti!